Vai, vai, vai Allora, il numero Il numero, poi abbiamo il nodaio Allora, qua praticamente il numero estratto Devo andare a verificare Possibilmente Vai, vai, vai Il numero X055 Poi X054 X053 Incredibile X058 E infine X056 Allora, vi ricordiamo A me mi sembra toccata questa situazione Comunque Vi chiedo di portare il biglietto E ritirare il vostro auricolo della Smeiser E avete per i ritardatari Un'ultima settimana di tempo Perché la vigilia di Pasqua Estrarremo l'ultima parte Dei 20 auricolari messi in bagno Per il mese di marzo Arrivederci Allora